Contro le infezioni in ospedale sbarca invece nelle marche un robot intelligente che uccide i batteri e ne impedisce la riproduzione. È l'unica macchina del genere in Italia e ce la mostra Caterina Cantori. Attraverso l'emissione di luce UVC è in grado di distruggere anche i batteri più resistenti, garantendo il 99,99% della disinfezione. Si chiama UVD Robot, il sistema tecnologico progettato e certificato in Danimarca, approdato per la prima volta in Italia, precisamente nelle marche, nella sede dell'azienda attiva di Ancona. Il robot a guida automatica può essere utilizzato negli ospedali per evitare le infezioni in corsia, ma anche nelle scuole o nelle aziende. Insomma, in tutte quelle situazioni dove si richiede un'accurata disinfezione. Si ha la certezza che comunque venga distrutto il DNA dei batteri, evitando così anche la riproduzione stessa del batterio. e portando così un successo della disinfezione pari quasi al 100%. UVD Robot è formato da tre sezioni. La parte inferiore è la parte della navigazione, la parte centrale è quella della disinfezione, mentre la parte superiore è formata da otto luci UVC a luce continua. A giorni il macchinario, il cui costo si aggira attorno ai 160.000 euro, sarà illustrato alle varie aziende sanitarie delle marche e non solo. Progettato come attività complementare alla pulizia umana, il sistema si muove autonomamente su ambienti mappati dopo l'attivazione tramite tablet. Viene fatta funzionare dopo che è stata fatta la tradizionale pulizia del locale. viene introdotta all'interno della sala operatoria, dopodiché viene fatta una checklist tramite il tablet, che viene dato in dotazione insieme al robot. L'operatore non deve fare nient'altro che seguire i cinque punti della checklist, dare l'ok e poi dopodiché fa partire in automatico il processo di disinfezione, accertandosi che all'interno della sala operatoria non ci siano né ostacoli né animali e ovviamente né esseri umani. Quanto dura il processo? Il processo dura all'incirca 30 minuti per una sala operatoria di 25 metri quadri.